Allora ragazzi siccome questo video è corto Oggi ve ne farò uscire un altro Questo qua uscirà alle 2 e mezza E l'altro video uscirà alle 5 Spero che vi piaccia sia questo che quello delle 5 Mi raccomando alle 5 ritornate sul canale Perché esce almeno che non avrò degli imprevisti E vi lascio al video Ciao E bella a tutti ragazzi Qui è Bazzu che vi parla E siamo di nuovo sulla vanilla Vanilla, vanilla E lo so, lo so Che come minimo ci sarà qualcuno Nei commenti che dirà Ma stai facendo troppi Troppi episodi di seguito Stai registrando continuamente di seguito Dopo non possiamo darti i consigli Ragazzi lo so Però essendo una vanilla E una serie che comunque Devo avere E' una cosa che devo avere il tempo di registrare Perché capite che io sono qua Se ho registrato 5 episodi Significa che io sono qua da 50 minuti Capite? 10 minuti episodio 50 minuti E siccome non è una cosa che posso utilizzare Tutti i giorni dire Ma si utilizziamo 50 minuti della nostra giornata Per fare la vanilla Minecraft Quello che volete Infatti Adesso dovrò andare anche a fare merenda Finito questo gameplay Non so cosa sia successo Ho cliccato tipo qualcosa Qualche tasto Qualche funzione di tasto E' partita Mi serve un seme Commetti che Adesso Quando me ne servivano due Non me li dava Me ne dava Me ne dava uno Adesso me ne dava due Esatto Semi Vedete? Tutta questa terra è coltivata Poi Bene Io siccome sto per morire Mi metto in casa E morirò fra 3 2 1 Boom Come? What? Ah opzioni Difficoltà Facciamo difficile Appunto Bazzucca Morto di fame Allora Ok Aspettate Ok Vabbè Era mia mamma a dirmi Che domani Siccome Ho la verifica Di No Di geometria Sì di geometria Devo andare a studiare Farò le No niente Le ultime scale No Lì Aspetterò che cresca E Ucciderò queste pecore Questa pecora Perché mi deve dare Da mangiare Perché io La maggior parte Delle volte No scherzo In questa serie Ho rischiato Praticamente Quasi sempre Di morire Di fame Esclusivamente Di fame E Praticamente Essendo Quasi sempre Morto Di fame Devo andare Qua Devo cuocere Un po' di roba E Basta Questo creeper Adesso Lo ucciderò Io Tu devi morire Ecco Ecco Adesso vado giù A prendere la roba E poi questo gameplay Lo interrompo Verrà un po' più corto Lo so Soltanto 5 minuti Farete tipo Eh vado Soltanto 5 minuti Di video Fanne un po' di più Ve l'ho detto Devo andare A studiare Se no Addio video E Vabbè Ripendo la mia roba E metto a cucinare La piccola E poi Vi saluto Ripendiamo la mia roba Per poco Non è volata Nella lava Se manca qualcosa Me ne accorgerò La prossima volta E questo episodio Cortino Se si potrà chiamare Finisce qui Ciao Ciao